Start il mercoledì, che riprende in diretta il 16 di marzo, bellissima puntata ci sarà la fondazione Franciacorta, un'azienda vitivinicola, parleremo di marketing territoriale e economia locale di Iseo, con l'evento del Cristo, la passerella che parte da Sulzano, arriva a Montisola che è un evento economico secondo me molto interessante per il territorio Ecco, quindi Quindi, 21.45, 16 di marzo, ci saranno qualche piccola novità della trasmissione all'interno dell'oretta che abbiamo di gestione del tempo Ci saranno dei balletti? Ci saranno dei balletti, Maurizio, sui tacchi a spil, no, questa è un'altra trasmissione e faremo dal punto di vista qualche piccolo 10 minuti di educazione finanziaria con questo che abbiamo appena fatto qua da te, abbiamo già lanciato qualche piccolo Una sorta di rubrica all'interno della traduzione Esatto, una piccola rubrica sull'educazione finanziaria dando dei piccoli segnali, piccole pillole di educazione finanziaria spero un servizio utile anche per chi ci ascolta per essere, e daremo anche un flash sull'andamento dei mercati come sta andando la settimana in borsa Tu hai detto, la fusione ieri di... Eh, stavamo leggendo di oggi Di oggi, grazie Grazie a tutti